Oggi la direzione politica giusta la dà quella collina lì, secessione, leggo scritto, è Piemonte libero, se il resto sono chiacchiere, però io voglio informarvi di una cosa che ho sentito mentre in automobile toccare di sfioro. Il Parlamento europeo ha ricordato nella maniera migliore che poteva fare, ha ricordato la grande marcia, la marcia democratica più importante, più grande avvenuta in Europa, la marcia sul paio a Venezia. Capisco bene perché in quel bellissimo strisone ci si è scritto Italia di merda, capisco bene, quindi attenti a tirare conclusioni, noi veniamo da un periodo onestamente difficile, la legge non era più né carne né pesce, sembrava un anfibio, non si capiva bene le cose, io penso, spero che da questa pontina sicuramente il popolo ha chiarito le cose, il popolo della legge ha chiarito le cose, qual è la via? Quindi a volte i dirigenti devono essere richiamati dai veri proprietari del movimento politico che è il popolo, sono i militanti. A volte anche i dirigenti pigliano strade che poi risultano essere perfetti. Noi abbiamo una storia e questa storia è quella che ha fatto la legge nata per la libertà del nord oppresso dal centralismo italiano. pigliano. Perché è un po' come con la nazionale di calcio, il giorno dopo la partita sono tutti allenatori, anche qua ci sono un po' di segretari federali in giro che hanno la soluzione di tutti i problemi che hanno la bacchetta magica. Io c'ero sul po' nel 96 insieme a tanti di voi, io sono orgoglioso di tutte le battaglie fatte, delle vittorie come delle sconfitte, delle cose fatte bene come delle cose fatte male perché qualche problema ce lo siamo andato a cercare noi, non ce l'hanno portato in casa solo gli altri. Anche noi ci siamo complicati un pochino la vita, ce lo diciamo sotto voce, ce lo diciamo molto sotto voce. Ebbene se qualcuno oggi, ieri o domani pensa che il futuro della Lega sia ancora quello di un partitino servo di qualcun altro di Berlusconi o di Forza Italia ha sbagliato a capire noi non saremo più schiavi di nessuno, noi accordi a ribasso non ne faremo con nessuno. Non voglio tornare al 4% per portare a casa 20 parlamentari di cui non me ne faccio un cazzo. Non mi interessano le poltrone, non mi interessano 20 parlamentari. Voglio cambiare questo paese, voglio cambiarlo, ma alle nostre condizioni.